A ghiacciante scoperta questa mattina nelle acque del bacino portuale di Senigallia il corpo di un uomo privo di vita è stato rinvenuto all'imboccatura del porto dopo l'avvistamento è scattata immediatamente la procedura per il recupero e nello scalo sono arrivati i carabinieri e la capitaneria di porto che con una sua moto vedetta ha recuperato il cadavere e lo ha trasportato in banchina per i primi accertamenti il corpo ripescato dalle acque portuali e di un residente di città di 83 anni che mancava da casa da alcuni giorni e per cui la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa l'anziano dalle prime indagini è emerso che potrebbe essersi suicidato l'83enne aveva più volte annunciato di voler togliersi la vita proprio gettandosi nelle acque del porto di Senigallia le indagini per fare piena luce su quanto è accaduto sono ancora in corso